Cristian finalmente sei tornato titolare anche se poi purtroppo il risultato non è stato magari quello che ti aspettavi e vi aspettavate Infatti era meglio che non giocavo, tre partite che non giocavo abbiamo vinto quindi era meglio grande che non giocavo No a parte gli scherzi, sono contento di accettare il titolare però la cosa più importante era vincere la partita di domenica Purtroppo non è stato così, speriamo di vincere domenica a Verona Perché solo domenica scorsa è stata la tua prima titolare con Maurizio? Forse ha preferito altri giocatori che stavano meglio di me fisicamente Come con il mister mi ho parlato, sicuramente devo dare qualcosina in più per potermi guadagnare una maglia titolare Io comunque sto sempre a disposizione dell'allenatore Quando desidero di mettermi in campo do sempre il 100% Non so cosa sia di diverso, comunque abbiamo interpretato cinque partite sempre con la stessa maniera Comunque volevamo sempre portarli giusto a casa Purtroppo ogni partita ci può andare bene in una situazione, invece un'altra ci può andare peggio E comunque per vincere partite sì dobbiamo essere bravi però ci vuole anche sempre un pizzico di fortuna Sicuramente dobbiamo mettere più attenzione in tutti i 90 minuti che sono al primo tempo Non lo so, forse caliamo un po' fisicamente nel secondo tempo rispetto al primo tempo Comunque con i preparatori stiamo lavorando per stare tutte le domeniche al top Comunque sia al primo che al secondo tempo Fin dall'inizio abbiamo sempre avuto un calo nel secondo tempo in tutte le partite Penso che si vede la domenica Comunque noi in allenamento diamo sempre il massimo Sempre Evidentemente ci manca qualcosina per stare al top della condizione Comunque noi in allenamento diamo sempre il massimo